Oggi 21 del mese di maggio dell'anno 2012, alle ore 16 e minuti 35, io sottoscritto Massimo Canetto, ufficiale del Stato Scendio del Comune di Castellanale di Stambia. Sono stato richiesto di procedere alla pubblicazione del matrimonio e dinanzi al patroco di Castellanale, in italiano fra loro, contrari, Emanuele Sorrentino, cede, nato in Diquequenze il 30 agosto 1982, residente in Diquequenze cittadino italiano, e Silvia Lamura, nubile, nata in Castellanale di Stabia il 27 novembre del 1975, residente in Castellanale di Stabia, cittadino italiano. Davanti a me sono comparsi a fare tareriti e stagliessi, quindi in un po' di manuele, e in un po' di manuele, e in un minacciuzzi. Auguri e arrivederci. Ringraziamo. Auguri. 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 Ehi, Φard! Ma noi! Wow, ma noi! Si, piaciù mangiare mezzissimo! Ma Ba', se ne parla a gusto! E' questo? E' questo? Non questo? Fai facendo la patata Tunti che lei che si chiama per te Buona cosa? ah ecco e quindi lo Forsy Vado a pensare no Vado a pensare non si 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 Va bene No Grazie. C'era a Bassa le mani. Bassa le mani. Mettete qua, Gerardo. Mettete a chiamare. Grazie. Manuere, Manuere, fermi così, fermi, 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 fermi. Io, lascio un genitore. Dici genitore. Ah, no, no, no. E' saluto. E' saluto. E' troppo film. E' immagino un po' più movimento. Passo dei genitori. E' un po' più movimento. Non è nel rinforo, non è nel rinforo. E' un po' più movimento. E' un po' più movimento, che ne sanno. Guardate una cosa, fate un brindio, guardate Ciruccino. Ci sanno il piccino. Prendete qua, eh. Vai prendete, fate... Ti ti metti? Io non so cosa c'è da fare. E' un po' più movimento. E' un po' più movimento. Sì, però tra Giacobbe. E' un po' più movimento. E' un po' più movimento. Il po' più movimento. Sì, poi era un po' più movimento. bravo, guarda quanta cosa dentro ci sta in questa ripresa, vedi? ma fa che mette lo champagne, ma fa che sei sfondato e mette lo champagne vai, 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 abbassate un po' la mano, abbassate, via, vedete, forza sicuramente e un applauso particolare alla mamma di Silvia per la preparazione grazie 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 Paolo dei saldici, bravo! Ecco fatto! Dove dobbiamo guardare? In alto! Guarda! Pronto, c'era! Chi è ma guarda? Pronti! Basta, c'era! Vai! 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 Guarda! 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 Grazie.